benvenuti in questo nuovo video oggi siamo ritenuti sulla serie principale di minecraft nel terzo episodio contando quarto episodio contando le due live se no secondo episodio detto ciò qua c'era il nostro piccolo bunker barra magazzino dove aspetta però il primo ecco fin testa giustamente qua c'era il nostro piccolo magazzino che avevamo fatto da modificare da migliorarlo tutto oggi mi è venuta in mente un'idea torniamo giù che sta diventando notte ve la spiego dopo dopo quando siamo belli spimpanti e svegli al mattino presto dormi 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 non posso ancora dormire mi è venuta in mente un'idea di creare tipo un porto un porto degli scritti dove tutte le cose che mi dite verranno messe con una barchetta e con un nome che non sarebbe non sarebbe una brutta idea quindi nei commenti lasciate cose volete che costruisco e le cose più belle verranno messe nel porto degli scritti le creerò e poi verranno messe con una barchetta nel porto degli scritti per fare questo porto per fare questo porto non so ancora come farlo sono sincero sono sincero sincero primis direi di farlo da di qui vediamo un po' se viene decente di fare tipo una cosa così che da poi una casa usata sul una casettina sul 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 mare che non sarebbe male lì ci sarà il faro se tutto va se tutto va bene e qua direi di iniziare allora in teoria le case sono alzate di uno quindi vai ancora di qui fai di due ci proviamo allora qua dove ci sarà una casetta molto molto piccola giusto prendere le chiavi della barca dopo te ne vai e qui c'è l'altro ok e qua c'è l'altro ancora voilà qui è dove ci sarà la costruzione che la faremo con legno scuro o con la pietra adesso vedrò per te si io non per te gli slab non si facevano così devo andare per forza prendermi la crafting table quindi lasciate 7 like ci arriviamo e dopo domani esce un nuovo episodio della questo di minecraft ita mi raccomando quindi tanti like o dei salto trasformiamoli un po in slab dalla pietra trasformiamoli in slab volevo dire e qui direi di direi di utilizzare sto legno qui oppure gli slabettini non è non so proviamo allora diamo un po occhio sempre a mettere le torce volevo fare una farm di di cibo visto che sono leggermente morto ma mi mancava un secondo una cosa che andremo a prendere in live o nel prossimo episodio non lo so e il pavimento però per cambiare lo farei in slabettini per renderlo un tocco più bello tanto il pavimento è sempre il pavimento chiudiamo tutto chiudi chiudi ovviamente è una cosa molto molto easy è provvisata e c'ho anche c'ho anche famiglio però non mangiamo ancora non mangiamo ancora chiudi tutto qua rompi questo blocchettino qua che non serve a nulla direi di chiudere o ne faccio già il po qua ci potrebbe già stare anche il molo che poi si allunga cioè il molo non so come si chiama dove ci poi si attraccano le barche che non sarebbe male tipo fai una sorta di scaletta che poi prosegui non sarebbe una brutta idea ora vediamo un attimo allora qua poi ci andrebbero gli scalini per entrare giusto quindi andiamo a fare subito un paio di scalini che ci possono sempre tornare utili direi di fare pure una cosa così dove qua entri poi prendi la tua roba prendi le tue chiavi e vai al mare piru qua chiudi 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 direi sì lasciamo così dove ci sono delle finestre così almeno da un tocco anche di bellezza e non un senso di chiuso facciamolo alto ancora uno allora ancora uno per forza e qui chiudi tutto e qua ci mettiamo tutti i slabettini direi giusto per riprendere lo stile del pavimento lo chiudi 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 me ne mancano uno me ne mancano due me ne mancano due tanto devo mangiare anche mi serve una fama di cibo nel più breve tempo possibile mangia mangia ok avvelenato però dettagli c'ho ancora della pietra si perfetto boom 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 30 e basta non avanzano sta venendo bene poi qua c'è andrà il vetro che lo andremo a mettere quando avremo appunto il vetro non questo non questo e non c'ho nemmeno ah si ce l'ho al piccone stavo per dire non c'ho il piccone per romperlo ok e qui 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 ok voilà voilà beh poi qua diciamo che qua entri per prendere le chiavi e tutto quindi direi che un paio di torch tipo una qua e una qui potrebbero tornarmi utili giusto per dare un po di accoglienza direi di fare tipo una cosa così che sembra dove dove c'è il bancone però qui ecco facciamo una cosa così che bellina sembra qua ci sia il bancone dove tu puoi prendere la roba magari ci metteremo un villaggiero più avanti che non sarebbe una brutta idea quando li troveremo e qui c'è il porto dove inizia il porto il molo il porto dove cacchio attraccano le barche ok e direi che qui poi qua li facciamo in legno ok qua dove attracchi ok ci sta ci sta mi sta piacendo papapero parapiro quindi mi serve altro legno o vado a trasformare questo qua in slab che è quello che ci aiuta di più prendi in slab fai lo tutto 48 slab basta non avanzano tanto c'ho anche i blocchi quelli pesanti un tettuccio dovrei farci ma non so ancora come farlo quindi direi di aspettare ok allora qui 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 direi di farlo altro 2 basta e avanza secondo me qua poi ci metteremo tutti i cartelli non so se si possono mettere i cartelli penso di si presumo di si si possono mettere i cartelli sopra al slab non lo so lo scopriremo che io vorrei aspetta ma questo qua è concrite o argilla? a parte che mi servirebbe una pala per romperlo in effetti no è argilla normale è argilla normale a me servirebbe la concrete che non so dove trovarla e qua non ce n'è vabbè vabbè dettagli ora visto che c'è il legno giusto per dargli senso che sta galleggiando e non che fluttui in mezzo a niente direi di metterci dei blocchi che sembrano che lo regga almeno almeno e però qui e però qui aspettate che mo dov'è? qui? ok metti qui uno e si bello mi piace si sta venendo carucciolo forse anche largo 3 non sarebbe male però no facciamolo così che se no ok a posto di mettere il vetro vorrei mettere tipo le come si chiamano le trapdoor non sarebbe una brutta idea però detto ciò continuiamo un secondo di qui ovviamente al primo momento lo farò piccolino e direi che qua va bene forse si potrebbe già chiudere no non posso chiuderlo però perché o faccio un ponticiuolo giusto o faccio un ponte che poi arriva dall'altra parte che non sarebbe una brutta brutta idea boom e metti la scaletta qua vedi non me lo fa mettere giustamente però se io faccio già una cosa così si e non è brutto non è brutto eh però no almeno un blocchettino qui me lo devo mettere per forza ok poi di qui tu sali e metti una la metti la scaletta poi tu sali ancora ok tanto dovrei fare anche la stessa cosa dall'altra parte no ho sbagliato vabbè in teoria qua con la barca ci dovrei passare si giusto qua ci sarà il sentierino fa che parte il sentierino giusto e direi di metterci una cosa così dopo slabettino scaletta l'altro slabettino e un'altra scaletta che secondo me è la cosa migliore e viene molto molto figo voilà e in teoria qua con le barche ci riesco a passare giusto bello così almeno qua posso pure uscire sta venendo carino eh ok la stessa cosa direi o di farlo anche dall'altra parte però dall'altra parte vorrei farlo un po' diverso perché così è già bellino qua ci vanno tutte le barche con tutti i cartelli tanta tanta roba però mi servirebbero anche dei blocchi questi qui per darci come al solito la consistenza che noi vogliamo prendi un po' di fogli diamo una una cespugliata capito avete capito ok prendi 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 buono siamo a 26 basta in avanzo andiamo a due non l'ho fatto apposta ok così farle così che si sembra stile stile casettina non è male fatemelo sapere nei commenti mettilo anche di qua la vedo abbastanza difficile ok fatto e direi di metterci anche delle foglioline metti delle foglioline direi di metterne un paio qua sulla sabbia forse no perché non è molto stiloso però dove ci sono gli angolini qui direi che ci può stare cioè da un tocco di bellezza in più niente male poi anche qui direi di metterne un paio senza esagerare se no scombustoliamo tutto mi piacerebbe fare un collegamento che va al faro però diverso quindi cambia perché per un faro giusto uguale tutto vediamo un po' se può venire decente e qua famo il ponte quindi mi servono altre scale ecco come non detto quindi tu 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 proprio tu boom boom e boom boom poi di qua metti un altro blocco e mettici una scaletta non so se toglierlo lasciarlo ma io per il momento lo lascio lascia e metti un altro blocco direi di salire ancora però o se va a incastrare nell'albero cosa figa non sarebbe male però mi sembra un po' esagerato andarsi a incastrare nell'albero per un porto forse un tetto non ci starebbe male o dai un po' di colore datemi dei consigli anche su come modificarlo però mi sta piacendo troppo mi sta piacendo poi quando metteranno i pesci nella 1.14 verrà una bella cosa e slabettino ok esattamente oh avevo azzeccato poi l'albero magari lo togliamo magari e qua ci puoi mettere altre barche lì ci puoi mettere tutto e qua ci sarà può nascere il faro e direi che qui ci possiamo mettere delle foglie anche in acqua però in acqua non mi convincono molto in acqua non mi convincono molto però comunque qua delle foglie ci possono stare ci possono stare carino carino ora andiamo a prenderci possiamo mangiare ci andiamo a prendere la zappa allora la pala la pala giusto quindi mangiamo e direi che come mini mini cosa ci potrebbe potrebbe stare c'è ancora delle modifiche da fare ovviamente però datemi dei consigli se avete qualche idea specifica e se se mi piace tutto finirete con una barchetta nel porto degli iscritti ok fai una cosa così e fai un tipo un sentierino alla caso alla caso magari togli queste torce che mi danno un fastidio incredibile un sentierino ma si giusto per dareci un po' di colore ok ma se lo metto non succede niente infatti ok per darci un po' di colore e per dare un po' di tonalità ecco occhio che ho paura che magari nascono mostri roba strana qui che o qua tanto poi ci sarà il faro sta avvenendo bene un'illuminazione certo potrebbe aiutare però è figo quindi andiamo a dormire e vi dico che per questo episodio è tutto spero vi sia piaciuto lasciate un bel pollicione in su nel caso vi sia piaciuto commentate condividete ovunque datemi dei consigli anche su cosa costruire su come addobbarlo e se vi piaceranno finirete con una barchetta quello nel vostro nome nel polo nel polo nel molo degli iscritti vi dite subito iscrivervi se non ce l'ho fatto e seguitemi su instagram facebook e twitter trovate tutti in descrizione attivate la campanellina e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao a tutti